Leggiamo la poesia. Cercata in mezzo a lungo, non ti trovavo mai. 10 febbraio 1888. Nasce ad Alessandria d'Egitto Giuseppe Ungaretti. L'esperienza di trincea, vissuta durante la Grande Guerra, ispira a Ungaretti una profonda riflessione sull'effimera condizione umana e sul valore della fratellanza fra gli uomini. Con il suo stile asciutto e disarticolato, rielabora il messaggio formale del simbolismo e diviene un maestro riconosciuto dell'ermetismo. La raccolta Il dolore, del 1947, testimonia il momento più drammatico della vita del poeta, seguito alla morte del figlioletto Antonio. Nel 1969 viene pubblicata Vita di un uomo, che racchiude tutta la produzione poetica di Ungaretti. Muore a Milano il primo giugno 1970. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Perdita da quella muto di re. Il fatto di avere poche... Il fatto di avere poche...